La mia è un'azienda vinicola e olivicola. Produco quindi uve da vino che mi aiutano a produrre vino e produco olive per produrre due oli extravergini. E poi facciamo anche del grano. È un'azienda di dimensioni medie, per la zona forse grande stiamo parlando di 12 ettari di vigneto e 5 di oliveto e una ventina di ettari di grano. Faccio questo lavoro con passione e produco vini di qualità in questa zona perché era l'attività di mia madre e prima ancora di mia madre e di mio nonno. Lo faccio con passione e con fierezza perché credo che questo territorio abbia delle grandi potenzialità che forse siamo noi del territorio gli ultimi a capire e comprendere. E per questo mi ha fatto molto piacere oggi ospitare questo convegno e ospitare tanti ragazzi perché credo che sia molto importante che voi ragazzi capiate queste cose e che non pensiate che l'El Dorado o il Bello è sempre diciamo più lontano ma invece avete del Bello e su cui lavorare e delle grosse potenzialità anche proprio nel vostro territorio. Basta vederlo, basta riconoscerlo e basta dedicartici con impegno. Niente, mi ha fatto piacere avervi e spero di poter fare altri incontri di questo genere anche nel futuro. A presto! Grazie a tutti!